Doveva diventare una delle parti storiche più importante della città e invece è diventata un luogo di abbandono. Parliamo di Piazza Salvatore Tommasi, residenza della Domus di Publiovidio Nasone, la casa natale del poeta latino più conosciuto al mondo, di cui quest'anno si festeggia il bilinerario, fu scoperta durante alcuni lavori nel 2007. Un intenso dibattito circontò l'intero perimetro cercando di capire cosa poter fare di quel luogo così importante. Abbandonata l'idea di far rimanere tutto visibile attraverso un vetro per problemi di condensa durante il periodo invernale, si decise di realizzare una piazzetta con un pannello che indicasse a cittadini e turisti cosa ci fosse sotto quei siampietrini. Una struttura, quella che fu installata dagli a poco, che fu molto contestata e che oggi continua ad esserla, per la sua bruttura per tutti gli atti vandalici alla quale è soggetta. È assurdo assistere a questo scempio, hanno sottolineato numerosi residenti. Una piazza abbandonata a se stessa e senza senso, soprattutto dopo la chiusura della biblioteca comunale. Struttura chiusa dopo il sisma del 2009 e mai più riaperta. Abbiamo le necessità di capire cosa voglia fare l'amministrazione di questa città. Abbiamo dei vicoli sporchi e pieni di erbacce, continuano, senza parlare poi di interi edifici puntellati a causa del terremoto. Sembra una città fantasma, grazie a chi non sa cosa fare. E poi parliamo di turismo? È assurdo, concludono. Siamo dell'avviso che bisogna assilare un elenco di priorità e cominciare a rimboccarsi le maniche. La situazione di abbandono è visibile agli occhi di tutti e questo non è certo un buon biglietto da visita per la città di Ovidio.